Sono esasperati i commercianti del Centro Storico Nissiano dopo l'incontro con il primo cittadino Giovanni Ruvolo avvenuto lo scorso 17 marzo nel foyer del Teatro Regina Margherita. Una riunione conclusasi con un nulla di fatto, poiché i proprietari degli esercizi commerciali a seguito della proposta da parte del sindaco di chiudere il traffico veicolare anche in piazza Garibaldi, oltre a Corso Umberto I e via Palermo, hanno abbandonato l'incontro. Una mara sorpresa dunque per gli esercenti del Salotto Buono della città che non si sentono ascoltati dall'amministrazione comunale. Nonostante nel corso dell'incontro e più precisamente nella prima parte in cui è stata chiusa la porta ai giornalisti, abbiano avanzato la proposta di introdurre un servizio navetta per i cittadini, che sempre meno frequentano il centro storico della città. Non è un caso, infatti, che sulla pagina Facebook del sindaco alcuni giorni fa sono state postate da un cittadino delle foto che riproducono un centro storico poco frequentato dai nisseni. scoraggiati, i commercianti dichiarano infatti di avere intenzione di continuare la loro protesta promuovendo anche azioni eclatanti. Il sindaco ha dimostrato ancora una volta di non volerci ascoltare. Continua a raccontare, cioè ci fa delle conferenze, ci convoca per parlare solo ed esclusivamente lui. Quasi quasi era... potevamo farne benissimo a meno perché non ha aggiunto nulla. Dice lui che ha aggiunto la ZTL, ma la ZTL comunque non risolve i problemi. Ricordo per l'ennesima volta che i commercianti del centro storico desiderano, auspicano, ma da molto più tempo delle elezioni che fosse eletto il sindaco Ruvolo desiderano quest'isola pedonale. Ma il suo modo di procedere continua a danneggiare tutti i commercianti del centro storico. Noi in questo momento ci stiamo muovendo per tutelare i commercianti della zona Santa Lucia e per tutelare i commercianti della zona Badia. Noi siamo sempre di quell'avviso di lasciare il centro storico libero, perché il danno che stiamo avendo è vertiginoso. Non si può capire, loro non si possono mai immaginare quello che stiamo perdendo. E quali pensieri che la notte non riusciamo neanche a dormire per gli impegni che ci sono, come la penso io, la pensano tutti. Se lui ancora continua a insistere per non aprire il centro storico, provvederemo diversamente. Abbiamo modo come provvedere. Non è una minaccia, però lui si deve rendere conto che per noi è sopravvivenza. È sopravvivenza non di una famiglia, ma di 50 famiglie, 60 famiglie.